Io e la Rai TV, perché pare che presto, presto, a giorni, sulla nostra Rai TV saranno messi i guadagni di coloro che lavorano in Rai TV, capito? Vedete che lavorano in Rai TV, questi sono due personaggi che lavorano in Rai TV, vedete qua, operazione trasparenza in Rai, si guadagna più di 200.000 euro, filtrano nomi e cifre a poche ore dalla pubblicazione online, vedete cari amici, e questo simpatico signore, che ha un cognome molto bello, si chiama Antonio Campodallorto, 650.000 euro l'anno, non so se è l'ordio o netti, qua non si dice nulla, guardate questo è il Cogliere della Sera, va bene? Ricordatevi sempre che io sono azionista del Cogliere della Sera, e io ho documentato tutto, 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 nel mio lontano video intitolato Rizzoli ora ci sono anch'io, ok, Rizzoli ora ci sono anch'io, sono azionista del Cogliere della Sera, e ecco, posseggo un pacchetto azionario di 10 azioni per un totale di 12 euro, sono anch'io un azionista, sono un collega di Urbano Cairo che è diventato l'azionista di maggioranza di Rizzoli, RCS, Mediagroup, questi sono i compensi, si chiamano compensi, vedete? a 360.000, a 350.000, a Monica Maggioni, è questa bella signora Monica Maggioni, guardate quanto è bella, Monica Maggioni, e queste sono le cifre, sono le cifre, queste qua, vedete che belle? D'Aria Bignardi, 300.000 euro, ma ripeto, il Cogliere della Sera doveva specificare l'Orbi e Netti, capito? L'Orbi e Netti, io erai tv, allora è a me che ho questa personalissima web tv che conta oltre 10.000 iscritti, abbonati, oltre 10.000 abbonati, oltre 7.000.000 di visualizzazioni e circa 8.000 video, a me che dovrebbero dare allora? Perché io qua lavoro da solo, eh? Sì, c'è anche Tommaso Minniti, ma Tommaso Minniti su questa web tv ci lavora poco perché lui gira per il mondo, è un attore del piccolo teatro di Milano, per chi non lo sapesse, vedete sta scritto qua Tommaso Minniti, lo vedete che è scritto qua e il lavoro grava solo su di me, il lavoro graverà su Tommaso Minniti quando io sarò morto, ma adesso in pratica io sono l'unico redattore di questa web tv, io e la rai tv operazione trasparenza ti guadagna più di 200.000 euro, ecco, qua abbiamo 650.000 euro, non si distingue tra metto e lordo, beh cari amici, giusto? Almeno adesso lo sappiamo, almeno siamo contenti di sapere, di sapere delle cose, l'importante è sapere delle cose, d'accordo cari amici? L'informazione sta al numero 1, al numero 1 cari amici, eh, vabbè, qua mi fermo, qua mi fermo, ricordo a tutti che io sono questo qua, io sono questo qua e sono anche questo qua. Ok cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.